Una battuta, Antonio? Sì, volevo dire solo questo. Attenzione che in questo momento è il Movimento 5 Stelle delle ambasce perché deve votare sulla piattaforma Rousseau. Attenzione, non vorrei che la presenza così importante di Berlusconi al tavolo delle trattative di governo inducesse una parte dei 5 Stelle a dire, beh abbiamo ragione noi, non possiamo dare l'appoggio a un governo Draghi che c'ha Berlusconi al centro. Quindi questo è un momento nel quale se si vuole fare il governo bisognerebbe anche agire con una certa prudenza.